Amici di Bracciami Ancora, oggi nuovo video diverso dal solito Allora, mi è stato chiesto di organizzare una super cena per un grande youtuber Amico di Bracciami Ancora, che ha superato da poco il milione di iscritti Ragazzi, quando uno ha un canale youtuber e supera un milione di iscritti, tanto di cappello Allora, già è figo quando tu hai un canale youtube Quando il canale youtube viene visto e è ancora più figo Io non posso immaginare quando arrivi a un milione di iscritti Quanto possa essere soddisfacente questa cosa Soprattutto perché ragazzi, una cosa la dico qui Apro una piccola parentesi biografica Nella mia vecchia vita vivevo in un mondo dove la meritocrazia non veniva riconosciuta Non c'era poco da fare, insomma, te potevi far verdere o se giallo La meritocrazia non funzionava da quelle parti La cosa bella di quando ho aperto un canale youtube Perché se sei bravo e la gente ti piace, la gente ti segue Se gli fai schifo la gente non ti segue Insomma, sto amico di Bracciami Ancora, sto grande youtuber Hai raggiunto un milione e gli aveva dato atto che è stato bravo Poi alcuni di voi potrà piacere, alcuni non potrà piacere Fondamentalmente non me ne importa granché Mi ha chiesto, Michele, voglio mangiare un sacco di carne buona Perché devo festeggiare a qualcun amico in sto milione Dei iscritti, allora ho detto, vabbè Giovanni, vien che ti organizzo tutto Ecco qua Allora, intanto stavo a festeggiare Ben arrivato, sopra c'è me ancora E siamo tornati, ma te non ci stavo, era un botto Era un botto in sedia Era un netto Questo sta sempre in giro con l'Italian, me caga più Da quando si può viaggiare, me caga più Oggi festeggiamo il milione di iscritti Esatto La nascita del tuo nuovo prezzo È la fine del primo capitolo La prima quest Perfetto, quindi in tutto ciò Super carne, super cena, super menu Grazie a Francesca Ecco Ciao Mazza Francesca, quanto sei figa oggi Ma adesso quanto è figa Oggi ci troviamo con Versami ancora E braciami ancora Quello che ti ho chiesto è Io devo festeggiare con un paio di amici che stanno là di ora Se li volete far vedere, stanno là, sono bellissimi Belli come il sole Vuoi fare un'esperienza al limite dello stellato Ma dovete abbinare le carni più buone Che si abbinano al vino migliore Creiamo la cena perfetta da Beef Bazaar Quella migliore che potete creare Vino e carne Siccome noi a Beef Bazaar siamo di casa Diciamo abbiamo tutti gli elementi per poterlo soddisfare, no? Ora cerchiamo di riavvolgere il nastro Facciamo così Tu metti di seduto Fai quello che devi fare E noi ci organizziamo Te famo mangiare le meglio cose, va bene? Io sono pronto Siccome a me fa un estremo piacere, no? Che ci sia venuto a trovare Giovanni, Francesca Guarda che cosa abbiamo selezionato Questo bue portoghese È un castrato di 9 anni Razza Ramo Grande È la prima volta che arriva in Italia Qui a Beef Bazaar l'hanno intercettata Diciamo E guarda che caratteristiche che ha Il grasso giallo che è di una goduria pazzesca L'abbiamo incontrato tante volte Il grasso giallo Il grasso giallo è sinonimo di sapore Sapore intenso Ma a differenza a volte delle carni spagnole Che hanno il grasso giallo Questo ramo grande, essendo un castrato C'ha della marezzatura interna Molto marcata Questa è una carne Che se tu la dai a un buon gustaglio Sei la magna e ti la richiede C'è solo un piccolo difetto Sai qual è? No Che per fare una bistecca Devi fare 3 kg di carne I ragazzi l'ho visti in forma Devo dire che l'hanno visti belli Belli proteici Ma spiegami un attimo Mi devi parlare della parte organolettica Amore mio Lo sai che è anche per me la prima volta che la assaggio Quindi io sono molto curioso Posso dorare intanto? Mettici il bel nasino No perché io sono emozionatissima per questa serata Quindi mi sono preparata sotto le ore che sto pronta Lo so, lo so Ho scelto il vino L'ho aperto quando deve essere aperto Perché deve respirare Perché ho scelto il vino così Metti il bel nasino Metti il bel nasino E la dovrei assaggiare Ma quanto c***o Non serve una forza Serve solo che batti sullo stesso punto Giovanni De V non ci capisce niente Sì ma siccome io bevevo lui Voglio bere bene Ah ok Non fai travasella Tavernello Bottiglia figa Tu c'hai un'etica Il problema sai qual è la cosa bella È che nella coppia Lei è l'etica E io sono la gotica Capito? E quindi Se ne esce Posso avere un momento romantico? Con chi? No da sola Ah sì Sempre verso il vino io sono romantica Benissimo Ora te riconosco Giovanni Sì Hai iniziato da zero E ha fatto un lavoro della Madonna Dal mio punto di vista La prima bottiglia è dedicata a lui Perché questa bottiglia Ha una storia molto simile Nel senso che è un mostro sago Della viticoltura italiana E stiamo parlando del sassicaia E il sassicaia Hai sentito dominare? Sì sì lo conosco Ma dove? Del massimo Zero Zero E io ho scelto però L'annata del 2016 Perché come in tutti i settori Michele tu lo sai Ci sono le cose vere Le cose mezze vere Ora hanno premiato il 2015 Dico questa cosa Non mi chiedete che me l'ha detta Ma il 2016 è nettamente superiore E' tipo il pallone d'oro Che lo devono dare Lewandowski Ma l'hanno ridata a Messi Ho capito Ok Quello era il primo regà Adesso onesti Se vieni qua La pagni 400 Caro Giovanni In maniera molto diciamo sobria Ti faccio notare Che abbiamo già raggiunto Quanto mille euro Tra carne e questo La bottiglia e la carne Salute 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 Il mondo del vino Se direbbe agli egitti Tatagini Quagli austriano Mi piace Tatagini e zebra però Salsallostrica Gel di zenzero Vai una Salivi de mo Tatagini e tatagini De guagli austriano e di zebra Mi piace E da tartar De Con la straccia delle pomodarini Questa qua Ok Se ne re Vai Ragazzi è arrivato il bue Eccolo qua Madonna Beato dei giovani Che poi assaggia sta roba Ma pure te la mangi frate Ma te la mangi pure te Beato dei quasi in tale merito Lo sai però vabbè Oggi Grazie No ma senti gli odori Annusate la prima Ragazzi Quando è arrivata Mamma mia Chiudi dove sei? Di Aversa Di Aversa C'è la cosa bella Io continuerò a fare video Sulla carne Finché mi emozionerò Quando c'ho sti pezzi Ragazzi De natura Guardate qui Lo sapete che ci sta Dentro a sto grasso giallo Lo sapete che ci sta Ci stanno secoli Di storia No Millenni di storia Millenni di tradizione Millenni di territorio E se volessi fare il figo Direi Millenni di terroir Questa è l'altra parte Cosa è successo? Madonna Questa è la seconda parte Questa è il prontosauro C'è vuoi dare Sono l'antipasta La prima parte che si è cotta C'è quindi quella è la parte 2 Questa è la coscia del dinosaurio Questa parte è più buona C'è fai? Non lo so Spezza Ufficiale 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 Signori Ufficiale Prossimo viaggio in Portogallo Prossimo viaggio in Portogallo L'ha promesso Se non me ce porta Quello Tataki di vaghi australiano Tataki di vaghi australiano Tataki di zebra Fa vedere la zebra Guarda qua la zebretta Questa è la parte 2 Che ho sbagliato? No la parte 2 Ah si scusate Una roba spaziale Devo ringraziare l'azienda Che è riuscita a portarla in Italia Si chiama Elitaria Ragazzi contattateli Perché sono tra i pochi in Italia In grado di far arrivare carne del genere Da queste parti In Italia Infine non l'ho fatto Perché era solo in pensiero Ma sta carne E' proprio lei E' mortacci quant'è buona lei E' proprio Mortacci quant'è buona Cortimbro La zebra sa quasi di pesce Brava Stam di ricciola Stam di ricciola Madonna che cena Intanto diciamo come ti chiami? Leonardo Dove te trono su YouTube? Leo Cristallini Ragazzi questo c'ha un canale YouTube Molto simpatico Racconta la sua vita E' un bravo ragazzo Come si dice a Roma Un bravo sbarbatello Seguitelo Che stavi a dire sta carne? Che se io dovessi definire Il reale sapore della carne A qualcuno Direi questo Amico mio La tua vita da carnivoro Da oggi sarà solo una delusione Perché hai raggiunto l'Eden Cioè più alto di qua Un po' è nà Io comunque vi devo Abbracciarmi ancora Perché ho perso la mia cosa E il mio preferito in assoluto Perché ancora non ti avevo presentato il conto Quando arriva dirai Oh sto parte Nulla mette Vieni qua amica Sto vizio che me vuoi bendà Fra però Amo detto basta Adesso Tu fai la mia parte Devi sentire Se il vino è perfetto Che non sta a piedi tappi E tutto quanto Poi la assaggi un pochino Mamma Madonna mia C'è sta la marena È più elegante del primo? Sì c'è sta la marena Lo sai perché? No perché Siamo in Francia adesso Ah Giovan Vi trovarci più spesso Te prego Stai buttendo No ma è aperte È un anno e mezzo Che fammi i video insieme Quante rego 2011 Ecco la base Ma ti vuole dire qua Guarda che bestia va Ragazzi a Giovanni Facciamo assaggiare Anche la Speckle Park Che è la razza Che prevede Della Nuova Zelanda E che per la prima volta È arrivata in Italia Quindi oggi Grande diciamo Privilegio per Giovanni Però intendiamoci Queste carni A partire da domani Le trovate tranquillamente Qui al Beef Bazaar A Roma In via Germanico Con Francesca Che vi accoglie E vi consiglia Il vino migliore C'è qua a casa Mangia solo l'insale Pochè Pochè da mattina a sera Buona sera Ciao regà Mi stanno venendo i figli Mi stanno venendo i figli Mi stanno venendo i figli Generalmente In Toscana dicono Che sotto le quattro dita È carpaccio Qui ragazzi Le dita sono otto Raccontaci il terzo vino Ma lo faccio veloce 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 Vai Allora Valpolicella di Zimè Vino molto elegante Molto elegante Lui è stato L'enologo di Quintarelli Si vocifera Che facesse lui il vino Qui lo dico E qui lo nego È una cosa Non si poteva dire Però l'ho detta E adesso fa il vino lui Quindi rimane L'eleganza di Quintarelli Che per carità di Dio È per sempre Però c'è una visione Molto giovanile E molto innovativa Quindi a me La sua Valpolicella Mi fa impazzire Facci vedere Che a me piace La Valpolicella Fino adesso Sono stati assaggi Se per te Va bene Faccio portare il resto Va bene Ok Abbiamo un po' saltato Gli ordini Di una cena normale Prima il maxi bistecchone Ora adesso è arrivata La tartare Della Speckle Park La razza neozelandese Però la cena Procede bene E soprattutto Giovanni I suoi amici Sono estremamente felici Non ce la faccio più No È una bella fettura Ma una fettura questa Te ne hai di conto come stavamo messi Questa è una chianina ragazzi Giovanni e i suoi amici Sono assolutamente di bocca buona E soprattutto Sono molto voraci Secondo me è il duodeno Che scarica a te Perché avete mangiato Una quantità di carne mostruosa Che vuol dire Vuol dire che siete senza fondo Ah ok Scherzavo Complimenti comunque Tiè Beccate questo Che è questo? È arrivato un po' di vino No le bollicine Le bollicine per sgrassare Alla fine Perché la bollicina sgrassa Capito Giovanni Questo è un canciacorto Bella vista È buono Molto Perché hai portato La bollicina sul finale Perché hanno mangiato Tantissima carne E quindi adesso Sicuramente i loro palati Stanno chiedendo aiuto E fresco Questo? Ok Sì Adesso un altro rosso Li avrebbe stancati E avrebbe rovinato L'ultima carne Perché penso Che questa sia una cosa Difficile La bolla La aiuterà A mangiare la carne Quindi se doveste fare Ragazzi Una maratona carnivora Così lunga Il consiglio È che sul finale Bollicina Che tipo di bollicina? Bella Secca Assolutamente Un brutto Un padosè Francesco Cominciamo a fare il conto Allora vino Traccia tu la linea Del vino Vino Gli lo sto Mette scontato 400 euro Secondo vino Alter Ego Chateau Palme 200 Fammi ho bevuto Valpolicella Zimè Due bottiglie Quindi 50 euro Ok Bella vista 60 euro 710 euro di vino 710 euro di vino Se sono bevuti Per fortuna Mi ha detto che è l'albergo Di fronte al locale Quindi attraversa la strada E arriva Bene Carne Abbiamo 4 kg Di 2 portoghese Sono 600 euro Poi abbiamo 2 kg di Sputtle Park Che è la carne neozelandese Che sta intorno ai 90 Abbiamo 180 Poi 2 kg di chianina 140 euro Poi sono arrivate tartare E le zebra 100 euro Antipasti Antipasti Per un totale di 6 7 8,40 8,40 9,40 1000 euro e 20 1000 7,30 Bella Madonna In 4 E' tanto che Bazzico Nella ristorazione Carnivore E' tanto che Bazzico Posti Belli Dove si mangia E si beve bene In 4 1730 euro Mi è capitato Raramente Mi è capitato Però ancora non ha capito Quanto deve pagare Secondo me Che sta ancora a chiacchierare Con gli amici Caro Giovanni Ti faccio l'elenco Di quello che ti sei mangiato Come ti senti? Grazie Sommando tutto Sono 1730 euro Esclusa mancia Io Pagavo mancia Tu e resto Ragazzi Conclusioni finali Bisogna fare delle precisazioni Punto primo E' stato un evento Straordinario E' stata una cena Straordinaria Perché si festeggiava Un traguardo Straordinario Un milione Di iscritti Sul canale youtube Il lancio Del suo brand Per questo Ci ha chiesto Di fare questa cosa Super super Ma una volta Nella vita Come i matrimoni Assolutamente Tu quante volte Ti sei sposata? Mai Mai Esatto Quindi io non l'ho mai fatta Una cena così Esatto E tu lo puoi ancora fare Seconda cosa Non è necessario Spendere tutti questi soldi Per mangiare bene Si riesce a mangiare bene Anche spendendo di meno Quindi se venite in questo locale Potete avere Esperienze super wow E esperienze super Ok Anche spendendo molto di meno Comunque Se volete organizzare cose del genere Ci chiamate E noi qui li organizziamo E ci mettiamo a disposizione vostra Come abbiamo fatto per Giovanni Io ho un problema Dove puoi fare tu il saluto? Dopo che bevo Ho sonno Ti farei una dormita Di quelle bellissime Ma tu non ho un'idea E abbiamo reso felice Giovanni Ragazzi un abbraccio Che l'abbraccio sia con voi